Con pagine di casa per confermare le ottime prestazioni delle ultime partite, ospiti per lanciare la volata playoff, diversi scenari per una stessa volontà, vincere. Serie D, girone A, Vado Bra, benvenuti. Quindicesimo, subito ospiti in avanti, passaggio filtrante per Banegas, che finta il tiro in sacca, un gol bellissimo! Come due anni fa Banegas torna a segnare a Vado, ma questa volta per la squadra avversaria, sospetto fuori gioco sul gol del Bra, ma il risultato è comunque di 0 a 1. Ventitreesimo, i padroni di casa sembrano completamente storditi, dal limite dell'area, Pinelli, Pennella, una palla al centro dell'area, dove Provenzano di testa riesce a deviare in rete! Il Bra vince, convince, dando spettacolo su ogni azione, lo 0 a 2 è più che meritato, ora per il Vado sarà durissima, come finirà la partita? Ventinovesimo, si cercava la risposta del Vado, eccovela servita. D'Alessandro sulla fascia, principia l'azione, avanza caparbiamente scartando due uomini, fa partire il tiro decentrato e segna un grandioso gol! Partita riaperta e girandola di emozioni senza fine. Nel secondo tempo, subito giallorossi in attacco, quinto minuto, Lucia chiamato alla grande parata, perfezionata dal grandioso Veneri, che intervento! Ventisettesimo, ancora Bra, cross al centro e ottimo salvataggio di Rusca, che toglie le castagne dal fuoco in scivolata! Ventottesimo, ospiti incontenibili, sulla sinistra, Pirrotta, mette al centro un cross schiacciato, che attraversa tutta l'area di rigore, sino ad arrivare a Pinelli, che a botta si cura, fredda Lucia, 3 a 1 per il Bra, il Vado avrà la forza di riuscire a aprirla nuovamente? Trentaseiesimo, i padroni di casa si trovano tra Scilla e Cariddi, ma sembrano non riuscire ad essere Ulisse. Punizione di Perdomo, palo esterno, magia sfiorata! Quartatatresimo, calcio d'angolo, una delle ultime possibilità, Sancinito, parte, Veneri, solo in area, non può che deviare la palla in porta! Incredibile, Alchitolina, partita riaperta, ce la farà il Vado a compiere l'impresa? Tre volte si porta in vantaggio il Bra, il Vado riesce a raggiungerlo, o quasi raggiungerlo, solo due volte. Risultato definitivo di 3 a 2, tutto sommato corretto, il Bra porta a casa una vittoria essenziale. Sous-titrage Société Radio-Canada